È un progetto, un traghetto, per il momento un momento politico che parte dalla regione Lazio, che mette insieme buona parte della classe dirigente uscita dall'Udc, regionale, amministratori, consiglieri comunali, il consigliere regionale Sbardella, il consigliere comunale di Roma Cozzoli, i sindaci, Fabio Di Lorenzi di Rignano Flaminio, tanti altri amministratori di tutte le province del Lazio che insieme con me, con noi, con Massimiliano Maselli, hanno messo insieme questa idea di cambiare, di scegliere, di uscire fuori da un progetto fallito come quello dell'Udc, di una dirigenza nazionale che ci ha portato a fare scelte sbagliate e punite dagli elettori e che oggi vuole ripartire con un perimetro preciso, che è quello del centrodestra, con un progetto di futuro, che è quello di costruire il campo dei popolari in questo nostro paese alternativo al campo dei socialisti e quindi cercare di riportare la normalità nella politica italiana e anche di occuparsi direttamente dei problemi della gente, dei cittadini, delle imprese che vivono una condizione drammatica dopo cinque anni di recessione economica, di difficoltà in cui la risposta non può essere solo il rigore ma bisogna assolutamente mettere in campo la crescita e lo sviluppo. Grazie.